Finalmente il sole, eh? Sì, ma la strada è ancora bagnata. Allora, autostrada o curve? Curve, curve! Sinistra! Però, l'abbiamo fatto presto. Ah, eccole. Eh, oggi il comandante aveva voglia di curve. Ma questa barca ce l'ha? La BS Lairbag? Certo. Alfa 145, Alfa 146, sicuramente. Alfa Romeo. Con 12 milioni di finanziamento in 24 mesi a tasso zero. Fino al 28 febbraio.